Attenzionato la 27esima edizione della festa dello sport, il Pineto Calcio, per la storica promozione in Serie C. Con noi il centrocampista Davide Traini, una bella soddisfazione per una piccola realtà come Pineto e per un campionato che state portando avanti, davvero al di là di ogni più rosea aspettativa. Sì, iniziamo da un paio d'anni in cui questo progetto si è realizzato, però è un progetto che parte da molto dietro grazie ai sacrifici del Presidente, di Silvio Brocco e di tutto lo staff e tutte le persone che collaborano con lui ogni giorno. Quello che abbiamo raggiunto l'anno scorso è stato un obiettivo fantastico che ha rappresentato l'apice di questo progetto. Ad oggi nel nuovo campionato di Serie C, che è un campionato molto importante, prestigioso e che il Pineto affronta sempre con grande umiltà, non ci stiamo assolutamente facendo rispettare perché attualmente stiamo facendo un campionato veramente da grande squadra. I ragazzi si stanno impegnando, stanno lavorando e quindi stanno onorando quello che è stato fatto l'anno scorso. Qual è la ricetta del successo? Perché va così forte il Pineto? Io credo che oltre al lavoro di ogni giorno dei ragazzi, al lavoro quotidiano, alla base c'è una società forte, una società che programma e che quindi non è un caso se sono arrivate tutte queste soddisfazioni, tutti questi riconoscimenti. Sei giovanissimo ma già hai su di te le attenzioni di grossi club, che cosa sogna Davide Traini? Io penso a giocare con umiltà e soprattutto so che non ho fatto assolutamente niente, anche perché devo guagnarmi di giorno in giorno il posto titolare, ma comunque io di base cerco sempre di lavorare al massimo e poi l'importante è la squadra, l'importante sono i risultati e quello che sta succedendo, quello che sta avvenendo, come stiamo andando sta a rappresentare il massimo di quello che può avvenire. Quindi siamo felici, sono felice, va tutto bene. I tifosi del Pineto però sognano i play-off? Sicuramente sarebbe un grandissimo sogno, un grande obiettivo, un altro grande obiettivo.